per le nuove generazioni la tua passione un esempio il crotone era in serie a ed era il 26 febbraio 2017 quando prima del fischio di inizio della partita tra crotone e cagliari durante l'inno melchior sempre più blu veniva esposto in curva lo striscione dedicato a franco romanini da poco scomparso amico di molti e fedele ai colori russo blu e presso il campo da calcio del quartiere lampanaro dove viveva ha avuto inizio il quarto memorial dedicato alla sua persona al suo murismo e ricordi che ha lasciato in molte persone un torneo di calcio a 5 dove dieci squadre si sfideranno per alzare al cielo l'ambita coppa e voglio ringraziare tutti perché lo ricordano sempre con affetto e organizzando ogni anno questi questo torneo un grande amico di questo rione di lampanare si 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 lui ci teneva molto al quartiere infatti è stato lui anche che insomma si è dato da fare per fare questo campetto cercava di aiutare molte persone insomma il mio papà era veramente una persona rodevole che ha dato tanto agli altri ha dato tanto agli altri ha dato tanto agli altri ha dato tanto anche a noi figli ed è anche un grande tifoso del crotone si lui è stato un grande tifosissimo proprio infatti poi i tifosi allora quando è deceduto gli hanno fatto anche lo striscione perché era un grandissimo tifoso e infatti lui ci ha trasmesso a noi e ai nipoti la il valore insomma della dei colori rosso blu quale ricordo più bello conserva del signor franco romanino il ricordo ho tanti ricordi del mio papà perché mio papà veramente è stato un grande un grande lavoratore e lui era anche amici amico aveva amici di tutto crotone il ricordo più bello è stato quando mi ha portato all'altare perché io sono l'unica figlia femmina di tre maschi e l'emozione che aveva nel cuore mi è rimasto veramente nel cuore e in più anche quando lasciavano i nipoti e soprattutto il grande francesco che porta il suo nome e ormai sono quattro anni che facciamo questo torneo ben fatto da gianni e dagli altri ragazzi ricordiamo franco molto volentieri ogni anno perché è stato una grande persona sia per tutti noi ragazzi che per il quartiere di lampanaro e poi un grande tifoso del crotone calcio è un grande mi ha combinato tante io guarda io lo conoscevo poco però a quanto a quanto mi raccontano era una persona veramente eccezionale speciale dieci squadre che si contenderanno questa ambita copp ma qual è il la chiave per vincere il trofeo franco romanino niente per vincere il trofeo franco romanino c'è una una buona squadra una costanza e soprattutto un un bel gruppo perché poi alla fine chi vince le partite sono quelli che formano un bel gruppo alla fine molto importante è una valenza sociale molto importante perché riunisce tanti rioni non solo lampanaro ma anche altri rioni san francesco e tutto il resto e quindi è un è un modo per stare tutti insieme e passare un po di tempo insieme e forza e forza sempre codone